allora si conclude anche quest'anno questo 2018 ricco di progetti importanti entusiasmanti che ci hanno visto crescere sia in italia che all'estero e visto che siamo alla fine dell'anno iniziamo il nuovo anno con i buoni propositi quindi facciamo un hashtag buoni propositi e sulla base di questo hashtag provochiamo il ragionamento la condivisione di tutti i collaboratori challenge network per renderli pubblici quindi per far sì che i buoni propositi 2019 vengano messi condivisi comunicati e venga messa la faccia per un nuovo 2019 ad altissimi livelli hashtag proattività perché un atteggiamento proattivo e propositivo è un atteggiamento vincente diciamo hashtag promuoviamo il cambiamento e se non cambiamo insieme ce la faremo ma sì hashtag perseveranza hashtag win win l'hashtag che ho scelto è success perché per il 2019 mi piacerebbe che tutti i progetti erogati andassero per il meglio e per condividere un feedback positivo con tutti i clienti hashtag gioia perché dobbiamo essere la gioia dei nostri ragazzi hashtag train hard informiamoci e reinventiamoci hashtag team for win perché insieme si vince allora no no spero spero tocca sincronizzarci per bene hashtag ti racconto ti racconto di un viaggio ti racconto perché viaggiare con noi puntare in alto basta hashtag parvarecetamonmandi ho facciamo crescere le nostre potenzialità con la formazione 1 2 3 original thinking hashtag si può fare si può fare perché ci sono tante opportunità di finanziamento per la formazione aziendale ok vediamo che possiamo aggiungere l'interazione ancora una cosa tipo quale sinistra mia ok 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 we are international basta hashtag io assisto forte forniamo assistenza tecnica agli enti hashtag no problem perché diamo soluzioni ai nostri clienti si però ste mani allora il mio hashtag è hashtag I say we mi piace passare dall'io al noi non solo nei rapporti con i colleghi con cui ci troviamo a lavorare in team ma anche nei rapporti con i clienti e con le relazioni che riusciamo a costruire in versione signor wolf risolvo problemi hashtag vi diamo ascolto costruiamo con voi il vostro cambiamento vai hashtag buon 2019 perché? perché ogni anno può essere il migliore ci metto il cuore in ogni progetto che costruiamo insieme 2 mappet era così? ce la possiamo fare immagino? no io ho già sbagliato tutto hashtag più competenti più soddisfatti insieme faremo grandi numeri hashtag buongiorno ho scelto questa hashtag perché una buona parola all'inizio della mattinata secondo me è la cosa migliore hashtag innovarsi formarsi per crescere per non invecchiare per ispirarsi per evolversi vado hashtag più strategia silenzio tu poi tanto puoi staccare no? hashtag mi specializzo e ottimizzo che devo dire? hashtag disegniamo il tuo evento evolvere ti piace? non mi sono spettinata? evolvere a posto andiamo ah devo dire tutto quanto? sì se vuoi facciamo mi e cocò progettiamo insieme il nostro futuro no non lo facciamo e allora dai e allora dai vai che devo fare? devi dire hashtag hashtag open innovation progettiamo insieme un nuovo futuro tada hashtag percorsi potenzianti hashtag i numeri parlano perché i numeri monitorano la qualità e l'efficienza dei nostri processi ed è questo quello che rende una customer experience di valore uno due tre hashtag cogliamo non mi toccare via hashtag cogliamo la sfida perché non c'è cliente senza un ottimo progetto e non c'è un progetto senza un ottimo cliente risp можacere risp 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 Grazie a tutti